Il valore aggiunto di un software come Food Cost in Cloud è la grande competenza di chi l'ha sviluppato che ti trasmette know-how. La praticità e l'essere nato per la ristorazione lo rende sicuramente unico. Avere tutto sotto controllo, dalle schede ricette appunto di tutte le grammature fatte apposta per quel tipo di prodotto. Migliorare la gestione sia degli acquisti che della creazione di ricette. Hai dei dati economici all'interno di un'unica schermata, diciamo così, di un'unica interfaccia. Dopo vari seminari e call con Vincenzo Liccardi abbiamo cominciato un bel percorso che è ancora in atto. Consiglierei Food Cost in Cloud. Tutti quei imprenditori nel campo ristorativo che vogliono crescere. Tutte quelle aziende che vogliono entrare in un concetto di managerialità nel controllo della propria azienda. È una marcia in più sulla gestione dell'attività. Consiglierei Food Cost in Cloud veramente a tutti.